ok prendi era dentro le canne non ci credo c'era lo step della palla dentro le case un vivo per miracolo wow comunque ho preso la palla adesso con la palla in mano le palle in mano adesso giochiamo guarda dove era guarda guarda in mezzo alle canne guarda si no vai avanti tu non ti preoccupare io passo dopo che sennò si alzano si alzano adesso prendiamo le palle la palla lo mettiamo qui dentro con le palla incandescente qua e se ci serve trovare e quindi ora cassiamo dove è la cassa e cartiamo tutti e quelli buono per le zone elettricità mi sa il figlio o io ho preso il mio kit c'è elettricità per un uomo di prenderlo porto cane le canne porco canne le canne ho preso il mio kit proprio per questo momento da mina mina e e ai falla migrare tu di là poi dopo faccio io ok tanto mi sa che c'è anche potenziare un'arma dopo sarebbe un'idea malvagia non essere e no non è ancora potenziato nulla no e non va bene io ho già dato via un'arma potenziata pure avventa addirittura per potenziare il sumar brand sappiamo tutti cos'è vero si si come no no si chiama davvero così è un mitraglione potenziato mi ha dato il v k m 750 c'è un mitraglione potenziato e ha una ricarica velocissima ecco migrata come volevi tu adesso se uno si butta lì dentro e migrata aiutiamo le casse a casa loro è scaduto con queste battute è vero non mentire guarda io sono qui perché so già che arriverà qui la cassa vuoi vedere vedere guarda 3 2 1 il predico non è la prima volta che mi succede eh sì non è la prima volta che mi succede fandonie bella sta pistoletta si 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 ho dato stamina mina e te l'ho fregata bravo fregato ah ma è tua ma ah not questo non è male questo assalto qua questo è mio ah lol questa è l'arma mi sa che avevo buttato prima a volte ritornano ecco il sacchiotto già dai sapi porco cane vediamo se qua è già bollito qua tanto adesso spona lì vuol vedere guarda ormai ho decreditato la mappa spona qui 100% 100% fidami ci metto la mano sul fuoco 3 2 1 failato e invece no dov'è ma dov'è no è la centrale che pale ma di nuovo di nuovo no riavviamo sazi è bagato no niente basta raga stacchiamo stacchiamo staccate non 18 baggi baggerino cierino fake bayeria justement al mesmo hello quadro su mai еровo proclaim di nuovo inizieria Chinese falling bill lascio proprio tutto benissimo per il portarmi via lo zombie dov'è lo zombie questo è quello di un scimmio buono, ho dato le scimmio, buono questo è molto buono ricordiamoci la vicenda zombie che camminano nel vuoto Dio, ma le scimmie hanno l'icona stranissimo no, giovane, ok sta avendo da te giovane, giovane, muori classe mi ha fatto vedere la Rega oh il guy, minchia mi ha fatto vedere, beh, sale in inizio eh sì dopo il prossimo step raga, step by step Regan, è funzionato lo step che ti ha detto, passa la volta non bisogna mai scoraggiarsi in questi casi esatto basta impegnarsi, davvero, raga allora, Regan e Galil, mamma mia, sto messo benissimo io direi di fare un upgrade volo al Galil si potenzio il Galil allora, ti attivo quella che sta al Daikiri io sto attivando Mule Kick ah, c'era quella dell'elettricità da attivare fai elettricità meglio vai vai se devi ancora scegliere così poi potenzi subito se fai solo un upgrade io potenzio l'STG sì, faccio solo un upgrade just for now ok, ho attivato qua dai kiwi dai kiwi qui 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 di voi quei biqui qui 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 qua manca solo quella della first room vado, vado vado si corre dentro per la C6 potenzio pure io vai vai se resta tempo ripacca pancia due volte prego vada venimilo zombie certo c'è ancora un po' cao inerte very nice e poi dei privi no no che non teniamo privi ma vai bugia potremmo ah no no dobbiamo aspettare mi diventi colorata la palletta gialla diventi vintaggiano la palletta perfetto ah qua sta effervescendo infatti si vede ma vediamo se cambierà io di prendere il phd flopper se non l'hai ancora fatto e c'è ragione c'è ragione tu 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 che fanno un phd flopperi dice mangi troppo non metta mai il cappotto io non so quanti slot perché abbiamo ma un botto mi sa così a occhio so io ho sto perk in questo momento lollo no mi sono venuto ancora easy 6 7 7 7 vamo prendo pure il deadshot dai tanto vado quando uno prende il deadshot ragazzi avete capito proprio è proprio full build sono fini delle le chiacchiere ah tu dici beh si vuoto si dice mangi 22 22 in the chat sal stoppa tutto e scrivi 22 in the chat 22 palo cannone festa festa grande gatti pure la bomba per festeggiare i fuochi di artificio grande festa la corte di francia ah ma io avevo seminato vediamo qua a che punto stanno le palline la mia banca del seme aspetta ma l'avevo seminato di fronte alla ah ho trovato un altro seme a proposito l'avevo seminato qua qualcuno ha già scavato al posto mio sal 24 ore no ma non sono stato io va bene va bene è stato girolamo non lo vedi non me lo sto appuntando sul mio deadshot non ti preoccupare sulla blacklist no 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 grande festa la corte di francia allora comunque facciamo un po' di points perché poi serviranno per fare cose fare un po' di points in quanto serviranno dopo ma secondo te è la scimmia che ti riempie il secchio perché io a lei chiedo quando vado a prendere l'acqua eh sì però se la fai fuori ti riempie lo stesso non lo so sai però dai è stata simpatica è ingannata come vedete manca solo atomizer e cristallo l'altro diciamo uno di due quindi stiamo qui ma non so se va affidato va affidato no ma non va affidato no no va solo aspettato ha bisogno dei suoi tempi raga è normale funziona così la vita tanto capo ormai le bombe proprio come se piovesse che fate nei brividi le bombe no non te ne brividi fratma no le urla delle scimmie sono quasi strazianti comunque grande festa alla corte di francia e basta calmatevi poco poco su uh macchina mortale da guerra in super mortaia l'uomo ma dici se ne esce con delle citazioni bellissime è una partita una citazione aggressivissima il mio personaggio super aggressive tu dai però come ammazza con capo inerte aia attenzione aia oh bello quell'instant tutto calcolato subito dopo la macchina da guerra mortale così si fa la strage e vedi ma vedi sal 24 24 cose 24 assurdo tutti a scrivere sal 24 round in the chat proprio così c'è tutto a casa 24 round in the chat c'è tutto insieme in the chat sai che c'è qualcuno che lo farà anzi qualcuno sarà più di qualcuno ma c'è una scimmie anche qui ma cos'è cosa c'è una mappa dietro oh è diventato d'oro oddio diventato d'oro dopo dopo mi sa che sono due o tre round no tre tre sono pure quattro considera che l'abbiamo messo a fine round allora salvi salvi ah per una volta non ci servono adesso c'è da fare l'ultimo step devi prendere il mio kick no ma non lo prendi io stranamente in questa partita l'ho preso il mio kick il mio dick ho preso il mio dick ho preso pure un seme che poi diventa sale siamo arrivati a noi no come no ti hanno inseminato bastardi sapevo se lo sapevi perché sei morto? chiedo bravo che hai tirato la scimmia andiamo 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 ti consiglio di tirare le scimmie per farti strada si ma infatti perk slot così a caso si no c'era comunque nell'altra partita non ce li stava dando così a buffo i perk slot no ma infatti boh è cambiato qualcosa non ho idea beh questa sta durando più round innanzitutto eh quello si si quello si però anche round bassi prima non ce ne ha dati così tanti di slot no mi ricordo tipo davo anche perk cioè bonus ah no perché forse non l'aprivamo quando diventava viola ma quando tipo diventava anche rossa ah hai preso la pianta si 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 tutti perché slot lo preso alla pianta in realtà stavo ti fosse uscito un muzzo ah lasciamo uno zombie l'ho già fatto l'ho già lasciato è qui da me credo sia ah the last of us cioè l'ultimo proprio eh eeeh aspetta è perché ok quanto è bello la caudita ai punti di black ops 1 porco cane il più bello change my mind no non me la cambiate ma devo capire dov'è il no qua stanno le granelle cosa stai cercando eh la cosa per buildare lì mi sa che qua ok trovato ok sto craftando attenzione 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 atomizer è diventata domani ma in questi be careful uh ma da tutti i perk zombie are coming comunque ma da tutti i perk forse tu non l'hai visto perché ce l'hai già ah mi ha aggiunto solo il coso elettriceri ok ok allora abbiamo completato main easter eggs adesso però c'è un'altra cosa cosa è tipo atomizer più potente non lo so ma è cambiata si è un po' è gialli no allora no come forma è uguale è cambiata un po' la texture è diventata un po' più blu e c'ha la punta gialla tipo cioè la punta gialla sparo qui sparo qui e tipo spara giallo invece che verde è cambiata un po' più blu